Finanziamenti per circa 15 milioni di euro dalla regione per migliorare le condizioni delle strade del vallone. Lo ha annunciato il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, illustrando i dettagli della riqualificazione della viabilità secondaria della zona nord della provincia nissena. Una zona in cui le frane e i cedimenti del suolo hanno reso poco sicure le arterie stradali, tanto che numerosi automobilisti preferiscono seguire percorsi alternativi molto più lunghi come quello di Bombenziere e delle contrade Poliziello-Mappa. Il progetto, finanziato con 13 milioni e 700 mila euro, prevede come soluzioni a questa situazione opere di consolidamento del manto stradale tra il Bivio Valle sino al lago di Serra di Falco, con varie soluzioni per la risagomatura e l'adeguamento del tracciato agli standard di sicurezza. Da ammodernare anche un tracciato di 15 chilometri tra Serra di Falco e Montedoro sulla provinciale 23, per il quale è previsto un ulteriore finanziamento da 2 milioni e 300 mila euro. I lavori, che possono contare sulla progettazione fornita dall'amministrazione comunale di Montedoro, prevedono opere di sostegno nei tratti danneggiati a causa dell'abbassamento della carreggiata, oltre a interventi di pulitura, alla realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane, all'abitumatura dei tratti ammalorati e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Le opere di sostegno consistono in tratti di muri con fondazioni su pali trivellati, drenaggi a ridosso e rivestimento con pietrame calcareo. Saranno anche realizzate delle gabbionate con la funzione sia statica sia drenante delle acque superficiali provenienti da monte. Previsto il rifagimento della carreggiata con asfalto e opere accessorie di ammodernamento.